L'unità, anche in fisica, è sempre un intero, senza decimali, a meno che la matematica non sia un'opinione. Ma la fisica ha due campi opposti, che si moltiplichano tra loro, n per n alla meno uno. Il positivo n, è elettrico materiale, si presenta come un numero intero. Il negativo n alla meno uno, il campo magnetico antimateriale, si presenta come un numero decimale. Pertanto, se si cerca solo una unità dissociata, ossia elettrica e o materiale, bisogna escludere la parte decimale, inversa, che serve solo a rendere n diverso da uno, quello che invece è uno, come unità dissociata. Ma ciò bisogna farlo solo alla giusta dimensione per quella unità, rispetto alle unità base del sistema internazionale. Per quanto riguarda la massa materiale, il riferimento è il chilo. Quindi, tanto per entrare nel dettaglio, chiarita che la dimensione unitaria dell'elettrone è 10 alla meno 31 kg, chiarito che l'elettrone è la particella di materia e quindi è una dissociazione della massa, in materiale e antimateriale, bisogna capire che quella dimensione 10 alla meno 31 kg unitaria riguarda l'unità della massa, ossia il valore dato quando la massa della particella si moltiplica per la massa per la massa dell'antiparticella. Allora n moltiplicato n alla meno 1 è uguale a 1 alla dimensione di 10 alla meno 31 kg. Ma se a noi non interessa l'unità della massa, ma l'unità della massa materiale della particella, allora dobbiamo usare un contenuto dissociato per rendere diverso da uno l'altro contenuto, ma che allora lo esprime in unità. L'intera unità della massa materiale della particella che è dissociata diventa allora n, ma chi la rende n è la quantità n alla meno 1 che a quella dimensione di 10 alla meno 31 kg appare nei numeri decimali. Se noi ci mettiamo a quella giusta dimensione 10 alla meno 31, è quella giusta unitaria, adesso non sto a spiegare perché, perché diventa un po' troppo lunga. Se è alla giusta dimensione noi aggiungiamo anche il dettaglio decimale, andiamo a inquinare la parte materiale mettendoci dentro anche l'antimateriale, ma non espressa così come è, cioè in potenza meno 1, no, raddrizzata, perché quando noi andiamo a trasformare n elevato meno 1 nel valore inverso, lo rendiamo inverso all'unità e lo presentiamo nello stesso ordine dell'unità, ma allora assume la quantità decimale. Quindi tutta la scala delle grandezze, noi possiamo immaginarlo come un grafico che cominciando dal chilo e a mano a mano che diventano più piccole le unità, noi abbiamo una linea inclinata, noi su questa linea inclinata a una certa dimensione avremmo l'unità della particella, ma dobbiamo pensare che la parte sotto multipla, quella inferiore, serve proprio a dare numero diverso da 1 alla particella che è superiore, cioè che è materiale, è l'antimateria che consente un numero diverso da 1 alla materia. Ma se noi per descrivere la materia poi aggiungiamo alla materia anche l'antimateria, vi sembra che noi così facendo descriviamo la materia? Considerate un'onda, è vero un'onda intera, è alto e basso, ora quello che divide l'alto dal basso è la linea di equilibrio. Noi possiamo considerare, facendo un esempio, la materia come materia che c'è. Ecco, a questo punto rispetto alla linea di equilibrio, la materia c'è solo qua nella parte superiore, perché nella parte inferiore dell'onda, immaginiamo un'onda d'acqua, l'acqua qui nella parte inferiore non c'è, non c'è materia e possiamo dire che è antimateria. Se noi, sapendo che un'onda intera è tutta questa, per esprimere solo la parte di materia, ci aggiungiamo anche la parte di antimateria? E voi dite come? Sì, perché se noi a 9, che è la parte di sopra, aggiungiamo 9 alla meno 1, cioè un nono, e noi stiamo aggiungendo antimateria e inquiniamo un conto che oggi è inquinato in tutte quante le unità della fisica. Oggi tutte le unità della fisica, stranamente, non sono unitarie, non hanno un numero intero, il che contraddice in modo assoluto il concetto stesso di unità che indica un accorpamento, come fa una unità a esprimersi con un numero decimale con decimali infiniti. Eppure, per i fisici, sembra che la matematica sia un'opinione. Quello che manca e è mancato finora in secoli alla fisica è una giusta dottrina epistemologica, ossia il controllo ragionevole, razionale, ai dati che sono rilevati in natura. Se non sono letti con la giusta intelligenza, ecco, accade quello che accade ancora oggi e, per quanto riguarda le masse che sono contenute nella relatività generale. Infatti l'energia è uguale alla massa per C2. Per quanto riguarda le masse, non abbiamo il valore giusto delle masse, di nessuna massa, perché non sono espresse in termini unitari. Una massa, per esempio 50, è 50 volte 1, ma se il numero 1 non è calcolato in modo esatto, anche il 50 volte 1 diventa un numero sbagliato. Ecco, oggi l'unificazione della fisica per quanto riguarda le masse è impedita dal fatto che le masse, così come sono contate oggi, non sono unificate, non sono unitarie. Ma io oggi le ho unificate.